Loro che non vogliono definirsi gruppo ma quattro amici al bar, quasi, giusto, tre amici, ci presentano tre canzoni. La prima scritta da Pierluigi Milani che si intitola Vicini e sarà una bella novità ascoltarla anche per noi, anche perché io Pierluigi lo conosco in un'altra veste, non quella di musicista e autore musicale e gli altri brani ce li presenteranno loro. Benissimo, ascoltiamo quindi i nostri amici questa sera con canzoni che introdurranno loro ciascuna all'inizio. Grazie! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti